Musica Primo fine settimana di dicembre all'insegna della musica e della cultura per i musei romani con la sesta edizione di Musei in Musica tanti gli spettacoli di ogni genere ad animare i musei civici, quelli statali, quelli privati ed altri luoghi di cultura della città dalle 20 di sera alle 2 di notte spettacoli accessibili al prezzo simbolico di 1 euro e totalmente gratuiti per quanto riguarda gli eventi presso 6 dei 7 piccoli tesori cittadini cioè i musei ad ingresso gratuito dalla fine dell'agosto scorso il museo di scultura antica Giovanni Barracco, quello delle Mura, quello Carlo Bilotti, il museo Pietro Canonica il Napoleonico, il museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina in questi spazi l'iniziativa proseguirà fino al 6 gennaio 2015 domenica 7 dicembre ingresso gratuito per i residenti a Roma nei musei civici e lunedì tutti i musei civici, normalmente chiusi in questo giorno della settimana aperti a tariffe ordinarie a spiegare l'iniziativa è Giovanna Marinelli, assessore alla cultura, creatività e promozione artistica di Roma Capitale sabato, domenica e lunedì sono tre giorni dedicati interamente ai nostri musei tre giorni nei quali i musei saranno aperti, saranno fruibili anche con molte iniziative musicali ma non solo, anche di spettacolo si comincia sabato 6 dicembre con musei in musica, dunque musei aperti fino alle 2 del mattino e con molte attività musicali di tutti i generi che consentiranno di fruire dei musei non solo la bellezza artistica ma anche queste iniziative musicali si continua poi domenica 7 sempre con tutte le attività dedicate ai diversi musei per concludere lunedì 8 dicembre quando di solito di lunedì i musei sono chiusi e invece sono straordinariamente aperti anche lunedì 8 dicembre per quanto riguarda la giornata del 7 dicembre essendo la prima domenica del mese come ormai facciamo da un po' l'accesso ai musei sarà gratuito per i residenti grazie a tutti